Oggi faremo una classe a cielo aperto, una lezione a distanza, sia professori che alunni si collegheranno. Noi vogliamo che vengano trovate delle soluzioni, perché ci sono un tot di specialisti sulle scuole. Noi non sappiamo come ci si può muovere, perché sappiamo che vanno presi in considerazione tanti fattori, e che non sia una cosa, però sappiamo perfettamente che si può fare, perché ci sono i negozi aperti, ci sono in lockdown, hanno aperto le fabbriche facendo rischiare anche dei lavoratori, perché le scuole non possono essere grandi problemi di sicurezza. Anche il 25% di presenza, tornare gli studenti in una maniera che ci sia più un supporto psicologico, soprattutto con gli studenti con difficoltà dell'appuntamento, ma che poi dipende dalla condizione sociale in cui non si trovano, metteremo un sacco di barbieri, che non può essere legata alla fortuna di vivere in un posto e alla sfortuna di vivere in un altro, perché è un sistema che è inferno. Quindi l'inclusione massima, che è adatta da una scuola, adesso è sicuramente diventa.